Ciao a tutti, bentrovati in questo nuovo video. Io sono Max e abbiamo delle belle novità per quanto riguarda il Grande Fratello Vip 7, edizione numero 7, di cui ne parleremo tantissimo nel mese di settembre, soprattutto verso la fine, dal 19 in poi che inizierà il programma. Ma abbiamo delle notizie che riguardano i prossimi concorrenti, certo salvo colpi di scena, che dovrebbero arrivare da un altro reality che è stato molto seguito in passato, ovvero Tentation Island. Purtroppo quest'anno la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia non è che sia andata in onda per la delusione del pubblico, ma ex protagonisti della stessa potrebbero, c'è la possibilità, che potrebbero tornare in auge molto presto e quindi scatenare dinamiche nella casa più spiata d'Italia. Infatti questi sono due pezzi grossi di Temptation. Non sto parlando ovviamente di comunicazioni ufficiali da parte di Alfonso Signorini, il quale ha precisato che nei giorni scorsi tenterà di far rimanere segreto il cast fino alla fine, poi tanto sapete che qualcosa sgattaiola via. Finora infatti si sa solamente che parteciperà Giovanni Ciacci che si soffermerà sull'argomento della sfiera positività, questo già l'avevamo detto, ma al grande fratello Vip i concorrenti arriverebbero da Temptation, due volti che il pubblico ha già conosciuto molto bene. Uno dei due, tra l'altro, sembrava essere il lizza per l'approdo a uomini e donne. Un doppio grande colpo avrebbe in serbo Signorini così, quindi doppio colpo, doppia sorpresa, che potrebbe stupire tutti portando al grande fratello Vip 7 questi due nuovi concorrenti provenienti dal reality show Temptation Island. A svelare tutto in anticipo è stato l'investigatore social, ovvero Alessandro Rosica, il quale ha pubblicato una storia Instagram nella quale ha fatto nomi, ma ha fatto anche cognomi, dei possibili Viponi. Si tratta nello specifico di un uomo e di una donna pronti a costruire un percorso che farebbe molto discutere i telespettatori. Questo quanto scritto da Alessandro sui social, questo è in riferimento poi all'approdo di ex Temptation al grande fratello Vip 7, ovvero Valeria Liberati e Luciano Punzo, ex Temptation Island, probabilissimi concorrenti del grande fratello Vip. Quindi, signori, sia Valeria che Luciano hanno ricevuto dei giudizi contrastanti nel corso della loro avventura nel programma di Bisciglia. C'è chi li ha amati, ma c'è anche chi non ha sopportato le loro personalità. Vabbè, non tutti possono stare simpatici a tutti, è ovvio. E nella casa più spiata d'Italia dovranno convincere anche i più scettici, in caso dovessero. Comunque, Valeria Liberati ha preso parte all'edizione 2020 di Temptation Island con il fidanzato Chavi, classe 1993, ha già una figlia e sarebbe ancora innamorata follemente del suo partner. Il nome di Luciano Punzo, invece, è stato fatto perché avrebbe avuto Chance anche come tronista di Uomini e Donne. Lui è stato Mister Italia nel 2017 e a Temptation Island 2021 ha perso la testa per Manuela Carriero, diventata poi la sua fidanzata. E questo è tutto per quanto mi riguarda, vi ringrazio per l'ascolto, noi come sempre ci sentiremo alla prossima e vi aspetto sempre su Pausa Caffè.